Quindi Comano che può portarsi già in vantaggio dopo 3 minuti Parte Lorenzi e la rete 1-0 Punizione Bersegna che parte Ambrosi Providenziale Andrà sicuramente in mezzo Quindi tutti in the box Sciabolata in mezzo per Poletti Stacca Poletti Per il 2-0 2-2 da posizione defilata Punta l'uomo Va giù E calcio di punizione Da rivedere Tutto pronto per questa punizione ad uscire Battuta adesso nel mezzo Gurlav Sbucca Poi la difesa può spazzare Prolungano la barriera quelli della Naune Per cercare di aiutare Mariotti su questo calcio di punizione Parte in questo momento Gurlav Si supera E manda in angolo La Naune deve sfruttare questa occasione Se vuole cercare di riaprire la partita E prova lo schema su calcio di punizione La battuta Alta Sbucca 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 Sbucca